Termina a reti bianchi il primo atto della finale di Coppa di Lettanti Puglia. Lo stadio Tursi tra il Martino e il Barletta finisce senza gole con uno 0-0 che rinvia tutto al ritorno tra 14 giorni. Con una cornice di pubblico d'altra categoria le due squadre preferiscono non farsi male. In cronaca Farina sceglie la coppia pesante e morra Pignataro. Risponde Pizzulli con Delgado e Ancora a supporto di Gulic. Al quinto c'è la prima occasione Barletta. Telera colpisce di testa ma la palla finisce alta. Proteste del Martino al minuto 12 per un dubbio tocco di braccio. Salomone lascia correre. La risposta dei padroni di casa è al minuto 23 con Delgado che però alza la mira non sfruttando un errore in disinvegno di vicedomini. Il primo tempo non regala particolari emozioni al Tursi. Un po' più vivace la ripresa con Morra che subito va vicinissimo al gol pescando soltanto l'esterno della rete dopo appena 10 secondi. Tre minuti più tardi Nannola non arriva su un pallone vagante. Mentre al sesto della ripresa Ancora chiama Tucci a un intervento difficile. Si rimane ancora sullo 0-0. Il Barletta al 56esimo rimette il Musi in avanti con la Vopa che non sfrutta però dall'interno dell'area di rigore. Le ultime due occasioni sono però di marca bianca azzurra. Barrera di testa al 63esimo su corner e il calcio di punizione di Ancora al minuto 87. Palla che bacia la parte esterna del palo. Finisce 0-0 al Tursi. Tutto rinviato giovedì 17 febbraio quando le due squadre si affronteranno per il ritorno. Grazie. Grazie.